eccoci qui ragazzi come state un saluto e anche oggi si compra domani scherziamoci su ovviamente ridiamoci su ovviamente calcio calcio mercato c'è ancora tanto tempo non prendiamoci troppo sul serio e quindi insomma prendiamola così da in questo momento scherzi a parte ovviamente speriamo di dare un sussulto un guizzo di dare un segnale mi raccomando commentate numerosi con il vostro punto di vista mi vieto lasciare un like se apprezzate il nostro canale youtube e se lo avete ancora fatto male iscrivetevi qui in questa zona abbiamo superato i 92.000 iscritti in poco più di tre anni di vita di milanello puntiamo insieme i 100.000 come dico sempre chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di milano quindi vediamo quanti rossoneri doc che hanno amato maldini van basten gullit sceva kakai quanti invece non milanisti ci sono dietro questo schermo che magari hanno amato materazzi nedved bonucci vediamo avanti 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 ovviamente gratuito vi aspettiamo e un test un quiz ultimamente stiamo introducendo questo quiz in attesa di colpi facciamo così e poi questi giorni abbiamo rivisto tanta storia del milan è davvero tanta tanta storia facciamo così allora ok brutta questa volta però non dovete andare a cercare su google qual è la squadra contro cui si fa male ronaldo il fenomeno giocando con la maglia del milan ricordo io ero inviato e avevo l'avevo visto proprio a due metri essere caricato sulla sull'ambulanza sull'esterno dello stadio in lacrime lui era mi toccò molto quella scena davvero poi l'avevo raggiunto anche all'ospedale galeazzi anche lì avevo intervistato mercer man e dove c'è contro chi a san siro contro vediamo senza cercare però su google allora ragazzi andiamo subito intanto una notizia per quanto riguarda lo stadio registriamo ancora oggi sala con un po di pepe ecco pepe non sul palato ma altre parti nel senso che continua a dire insomma sarebbe un peccato perdere milan e inter sta avendo paura benvenuto doveva averla magari prendere un po di petto la situazione più nei tempi dietro il sindaco di san donato ha detto il fatto che ci sia questo accordo firmato per aprire insomma un dossier non significa che lo stadio verrà fatto qui come risulta anche a noi a san donato manifestazione sul territorio per opporsi alla costruzione del nuovo stadio a san donato quindi tutto mondo e paese lo stadio a san donato però sarebbe un impulso per il comune dal punto di vista commerciale incredibile quindi insomma io tendenzialmente se fossi da quelle parti non mi opporrei anzi poi ognuno a proprio punto di vista può può essere un'occasione importante anche per per il paese per per il commercio per il valore anche commerciale delle stesse abitazioni però ognuno fa quello che crede ci spostiamo al capitolo calciomercato con una serie di notizie ovviamente aspettiamo tutti con ansia la prima spunta verde la prima fumata bianca la prima operazione che possa sbloccare nel frattempo ecco intanto diciamo che colombo viene riscattato dal milan che riconosce quindi a lecce un milione di primo di valorizzazione comunicazione ricevuta ieri da corvino da parte di moncada quindi c'è questo questo ritorno ma non rimarrà in rosa andrà via o ancora in prestito con diritto di riscatto contro riscatto oppure potrebbe essere ceduto anche a titolo definitivo con un diritto di recompra un domani vediamo è un'estate in cui verrà definito il futuro di colombo che ha fatto una buona stagione al lecce proseguendo poi segnaliamo come scamacca sia vicino alla roma che ha trovato l'accordo con il suo entourage con la stella la famosa agenzia con cui anche il milano in ottimi rapporti quindi scamacca rischia di accasarsi dal west ham alla roma a quel punto rimarremo un po senza alternativa a quel turam che continua a non rispondere continua a farsi desiderare così a naso a me non piace chiaro che dall'altra parte pare ci sia il psg che offre 7 noi cinque a quel punto dica di no ma se non dice ancora di no perché forse il psg non c'è insomma cerchiamo di uscire da questo equivoco che sta portando via un po di giorni e l'attesa dopo un po per quanto mi riguarda diventa anche stucchevole per un giocatore che non è un fenomeno magari diventerà un ottimo un campione però insomma i numeri al momento non sono così esaltanti speriamo che spostato eventualmente dovesse arrivare come numero 9 possa fare bene ma che dia una risposta così che il milano possa non perdere magari anche altri giocatori a proposito di perdere giocatori vi segnalo che il newcastle sta guardando in italia ha chiesto barella all'inter con un'offerta da 60 milioni di euro al momento rispedita ma credo che ci potrà essere ancora possibilità di parlare di barella con l'inter hanno chiesto anche tonali al milan tonali attraverso il suo entourage ha fatto sapere di non essere interessato a questo trasferimento di voler rimanere al milan e quindi ha dato una risposta che ha spento sul nascere ogni ipotesi trattativa detto che il milan comunque non aveva non ha intenzione di far partire tonali ritenendo il giocatore una colonna portante di questo milan ci mancherebbe altro aggiungo io che arrivano e fanno partire tonali quindi no complice anche il giocatore che ha deciso di non parlare di non sedersi neanche a un tavolo per parlare di discutere rosso nero doc il nostro sandrino tonali sandrino nostro tonali poi attenzione due nomi nuovi ce ne sono tanti ma non è che vengono inventati nomi ci sono nomi di prese di informazione da parte del club nomi che vengono proposti dall entourage nomi che lettura stesso ha interesse a costare allora però c'è innanzitutto un parliamo di due uno più conosciuto l'altro non tanto conosciuto il primo ha costato da asse molto autorevole in spagna giocatore che gioca appunto nella nella liga spagnola e guido rodriguez che secondo asse finito nel mirino di napoli e milan scadenza 2024 quindi anche qui si fa leva sul fatto che il giocatore se non rinnova lo porti via prezzi favorevoli rodriguez è un nazionale argentino a 29 anni e altro 85 di mestiere fa il centrocampista lui ha nel real betis 144 144 partite e 7 gole 3 assist prima appunto giocava in argentina nazionale argentino con cui ha 27 partite e un gol non è uno che ruba l'occhio non è uno che fa gol faccio vedere anche la mappa di calore quest'anno in liga è un centrocampista di sacrificio di corsa di intensità proprio alla all'argentina alla sudamericana che è affidabile è anche sottovalutato quest'anno vediamo un po di dati insieme allora 87 per cento passaggi riusciti 65 tocchi a partita 3,4 take la partita 1,2 intercetti dribbling riusciti 73 per cento duelli vinti 60 per cento 8 gialli 0 rossi è un giocatore che magari avete visto in qualche partita dell'argentina con la gara argentina potrebbe insomma venire non per fare il titolare però per completare il reparto detto che comunque un giocatore di esperienza ripeto molto molto sottovalutato milan e napoli sul giocatore secondo as che evidentemente ha informazioni dal club di appartenenza di questo giocatore che comunque è uno che nel giro nazionale argentina da diversi anni magari ecco vi do un'indicazione in più e poi veniamo all'altro giocatore che potrebbe essere una monca data diciamo così allora lui ha fatto eccolo qui recupero il dato diverse partite appunto con un gol con l'argentina volevo adersi ultimamente c'è ultimamente c'è sì in coppa del mondo ha fatto soltanto una partita le altre le ha fatte in palachina però insomma comunque è nel giro nelle convocazioni nazionale che oggi è campione del mondo guido rodriguez giocatore di fatica che magari non ruba l'occhio ma molto prezioso nelle sue squadre e so che il minan dovrà prendere e prenderà i due centrocampisti più uno cioè due che giocano in mezzo al campo più uno che giochi un po più avanti nella posizione di trequartista come come dieci guido rodriguez potrebbe venire via prezzi agevoli perché comunque 29 anni e potrebbe essere un krunic più forte con più esperienza per il minan poi un nome che non ruba magari o l'occhio non accende come come quarto secondo me ci potrebbe stare ma deve arrivare comunque uno forte il cosiddetto terzo titolare poi proseguiamo nelle ultime ore un giocatore è stato costato sia al milan che alla juventus il giocatore in questione è george mi qua tazze che viene considerato il nuovo kvarascheglia proprio perché è connazionale di kvarascheglia giocatore che di mestiere fa l'attaccante nato a lione ma di nazionalità georgiana 1 e 76 punta centrale di movimento gioca nel mezzo rientra al mezzo cadenza 2026 quest'anno ha giocato una serie b francese con 37 partite 23 gol e 8 assist ha fatto anche tre partite un gol un assiste la coppa francese una rete ogni 139 minuti è chiaro che insomma lui adesso torna nel mezzo gioca e non giocava in un centrocampo minore ecco dalle quotazioni rialzo il milan c'è anche la juventus oltre che il barley profilo che ti puoi portare a casa per una cifra molto ridotta e potrebbe essere a 22 anni il terzo attaccante non il primo chiaramente un'operazione che potrebbe essere promossa agli algoritmi di moncada ricordiamo che lui ripeto un classe 2000 passaporto francese passaporto francese comunitario appunto che ha contribuito alla promozione del suo club in league an micawadze micawadze il nuovo talento del calcio georgiano poi sto pensando se mi sono dimenticato qualcosa in questa raffica di mercato a volevo far vedere sì la mappa di calore intanto di george micawadze in league 2 eccola qui e guardate è un tutto tutto attaccante tutto attaccante tutto movimenti e volevo vedere per con voi live non lo conosco molto ho visto un video prima sembra interessante a 14 partite tre gol comunque con la nazionale georgiana il nuovo covara scheglia perché dovrebbe essere il nuovo giocatore che il calcio il calcio georgiano è pronto a esportare appunto forse in italia anche juve minan barley vediamo dove si andrà a collocare non è finita qui perché avevo anche un'altra notizia allora 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 me la sono segnata eccola qui ah sì dimenticavo fatemi vedere quanti quello ha fatto quest'anno così vi do qualche dato in più vi avevo raccontato le scorse settimane che massara aveva incontrato l'entourage di mauro riccardi come si incontrano tanti agenti tanti procuratori e massara aveva detto ma sta ancora con vandanara ok grazie e se n'è andato sostanzialmente per riassumere risulta che il suo entourage stia provando a diciamo così dialogare di nuovo con il milan potrebbe esserci un appuntamento comunque un tentativo di dialogo anche a distanza con il giocatore che sogna di tornare all'inter ma l'inter dice no e si sta proponendo a juve roma e di nuovo al milan che ha cambiato guida dirigenziale 24 partite 22 gol 7 assist quest'anno in turchia una rete ogni 86 minuti davvero numeri straordinari in turchia va detto borini però ha fatto qualcosa come tre a quattro gol in meno quindi vanno sempre pesati ragionando insieme a voce alta capisco il tentativo ma non credo che questo tipo di dirigenza maggior ragione possa dire sì ai cardi che a 30 anni ha un ingaggio anche elevato non mi sembra che sia il mercato dell'algoritmo detto che non si farà soltanto tutto con l'algoritmo ditemi cosa ne pensate sui carti se conoscete appunto questo armeno che ha fatto tanti gol in league 2 poi mi cauazze e su colombo cosa fareste controllo prestito cessione scatenatevi con i commenti qui sotto e speriamo che davvero domani si compri non oggi ma domani ovviamente c'è ancora tanto tempo ne ci scherziamo anche un po su prendiamo la con filosofia detto che si spera si cerca di smuovere un po le coscienze portafogli mi raccomando commentate numerosi lasciate un like iscrivetevi qui attivate la campanella numerosissimi mi raccomando ci conto e chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di milano chi non si iscrive ha avuto come riferimento materazzi e non maldini scherze a parte vi aspettiamo numerosissimi mi raccomando ci contiamo ora vi rimando video precedenti con vi parliamo anche un'altra situazione un po surreale e di quello che potrebbe essere il nuovo aughe per l'esterno d'attacco del milan per gli esterni un abbraccio a tutti ciao